Oroscopo di Paolo Fox. Le previsioni zodiacali di lunedì 29 aprile.Paolo Fox ha regalato anche oggi l'oroscopo ai fatti vostri. Il programma ideato da Michele Guardi e condotto da Giancarlo Magalli, Roberta Maurice e Jody Tonno è tornato a far compagnia al pubblico di Rai 2 dopo la pausa del weekend. Paolo Fox ha svelato l'oroscopo del 29 aprile 2019 segno per segno. Il noto astrologo della seconda rete ha parlato dell'amore, del lavoro, della fortuna e della salute, assegnando dalle 2 alle 5 stelle dai segni dello Zodiaco. L'oroscopo di Paolo Fox ha chiuso i fatti vostri, che hanno proposto anche oggi attualità, informazione, rubriche musicali e culinarie. Fox è stato però protagonista anche ieri su Rai 2 a mezzogiorno in famiglia svelando l'attesissimo oroscopo settimanale. Paolo Fox, oroscopo 29 aprile 2019, i segni a 2 stelle di oggi.L'oroscopo di Paolo Fox ha i fatti vostri di oggi ha assegnato 2 stelle ai gemelli che vivrà delle tensioni nella professione. Il segno sarà un po' agitato e a maggio cercherà di fare un bilancio di vita. 2 stelle per la bilancia che non brillerà in amore, ci saranno questioni da risolvere in famiglia. Il consiglio dell'astrologo è stato di essere cauti. 2 stelle per il capricorno che sarà un po' confuso questa settimana e inizierà a capire che alcune situazioni non possono essere sanate. Qui è disponibile l'oroscopo del 29 aprile anticipato ieri da Fox.Oroscopo di Paolo Fox del 29 aprile, a 3 stelle Toro, Cancro e Vergine. L'oroscopo di Paolo Fox del 29 aprile 2019 su Rai 2 è proseguito con le 3 stelle del Toro che dovrà risolvere i contrasti. Ci sarà un cambiamento di vita per il segno e qualche problema finanziario. 3 stelle per il cancro che inizierà la settimana sottotono. 3 stelle per la Vergine che avrà la Luna in opposizione. Il segno si sentirà stanco e il consiglio di Fox è stato di evitare discussioni. Maggio segnerà però una ripresa.Paolo Fox Oroscopo di Oggi, Ariete, Scorpione e Sagittario a 4 stelle. Paolo Fox con l'oroscopo di Oggi ha i fatti vostri e ha segnato 4 stelle all'Ariete che otterrà occasioni part-time. 4 stelle per lo Scorpione che non riceverà risposte attese oggi, ma brillerà in campo sentimentale. 4 stelle anche per il Sagittario che riceverà notizie importanti e in amore potrà brillare. Il segno sentirà l'esigenza di innamorarsi.Oroscopo del 29 aprile di Paolo Fox, a 5 stelle leone, acquario e pesci. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ai fatti vostri del giorno hanno assegnato 5 stelle al leone che sarà molto carico e solare. 5 stelle per l'acquario che potrà puntare sui sentimenti. 5 stelle per i pesci che vivranno un buon lunedì. Bene le trattative. Domani ci saranno delle tensioni da affrontare.